Musica a noi i nostri debiti, come noi. Grazie. Io non giuro neanche per l'arco, non torno più in piedi. Ma se vado così, prima però. Diamo la benedizione allora alla... Sindaco, il suo primo Santerasmo da primo cittadino, un'emozione? Sicuramente un'emozione, questo è il momento forse più importante per la comunità di Arma, è il momento in cui Arma si stringe intorno al suo santo patrono, è un momento importante per noi perché sancisce anche il culmine dell'estate, della stagione turistica e siamo ben lieti della bellissima giornata che stiamo vivendo e stasera sarà il Clou con il momento anche di fuochi d'artificio e della festa in paese, quindi davvero contenti, è una bellissima prima edizione. Per iniziare il mese Clou dell'estate, agosto, come si sta prospettando per Arma e Taggia? Le presenze sono molto buone, siamo partiti tardi per ovvie ragioni, però stiamo recuperando terreno, sarà un agosto interessante, ricco di appuntamenti e di stimoli, così come è stato lui e ci metteremo ancora più impegno. La sua parola è il problema, non è facile che tu prendi l'argo dopo vi essere praticati in un anno, tutta la notte, non è facile fare per me, non è facile, non è facile l'argo dopo vi essere praticati. Grazie. 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 Cielo, tu sei in terra, nasci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come noi. Grazie a tutti.